Il Festival dell'Aquia Genova si è concluso, un bilancio. Eccellente, oltre ogni aspettativa diciamo. Si capisce che quasi sempre chi organizza una cosa tende a dire che è andata bene, però credo chiunque abbia potuto constatare, insomma tutte le manifestazioni hanno avuto un'attenzione particolare. Siamo sia quelle più strettamente tecniche ed interne che quelle più a carattere culturale, divulgativo, fino allo spettacolo di ieri sera, mi sembra sia stato molto bello, molto sentito, molto partecipato e si concluderà, perché non è ancora finito, il Festival in realtà si conclude con la Notte Bianca, però devo dire che questo non è merito nostro perché la Notte Bianca genovese ha una tradizione ormai consolidata. Nei diversi incontri mi sembra che si sia spesso ripetuto il fatto che le aziende chiedono sempre di più delle regole certe in questo settore. Diciamo che è stato un po' nella parte tecnico-economica del Festival è stato il lato motivo, cioè chiunque la pensasse in qualunque modo diverso, dalle banche agli industriali a coloro che producono beni che poi servono agli impianti acquedottistici, chiedono una cosa che in Italia sembra impossibile da ottenere, cioè quello che si faccia una legge stabile che permetta di traguardare, non dico i secoli, ma insomma i 10-15 anni per cui un'azienda possa pensare di investire, dedicare risorse, dedicare i propri ricavi, investire in tecnologia, in cultura, in finanza, con tariffe certe, con un'autorità che arbitri, faccia da arbitro a questa situazione, abbiamo visto che questo potrebbe essere una poderosa spinta anche al nostro fragile incremento del prodotto interno lordo, perché stiamo parlando di prospettive per circa 36 miliardi di euro di investimenti. Ora se pensiamo alle discussioni che si fanno attorno alla grande azienda automobilistica italiana quando si parla di un miliardo di euro di investimenti, che per carità è molto, è una cosa molto seria, un miliardo di euro di investimenti, qui ora noi stiamo parlando però di 36 miliardi di investimenti. E purtroppo devo lamentare il fatto che dinanzi a questa potenzialità, alla necessità di dare un quadro certo in cui si possa operare, anche l'ultima manovra economica del governo, che avrebbe dovuto e dovrebbe avere come scopo quello principale di favorire lo sviluppo, oltre che di contenere e di tagliare la spesa pubblica, non fa nulla in questa direzione, anzi colpisce le nostre aziende pluriservizio, quelle che spesso adoperano il denaro circolante che deriva dall'attività di gestione di reti del gas o di commercializzazione del gas o della corrente elettrica, lo usano anche per gli investimenti, la finanza viene usata anche per finanziare gli investimenti nel settore acqua, sono colpiti dalla roaming tax che diminuirà obiettivamente la possibilità finanziaria di questa azienda, quindi andiamo addirittura in direzione opposta. Il momento più bello, oserei dire più emozionante, che si porta a casa di questo festival? E ve ne sono stati molti, per esempio la stretta di mano in pubblico, in sede in modo ufficiale tra israeliani e palestinesi, a conclusione di un dibattito che pure non aveva escluso colpi anche duri, diciamo si erano lanciate delle belle bordate gli uni con gli altri, ma alla fine hanno convenuto riconoscendo a noi questo ruolo che era importante parlare, che era importante cercare soluzioni, che il dialogo non si doveva interrompere, ci hanno riconosciuto come ha riconosciuto il ministro palestinese di aver fatto da questo punto di vista una cosa eccezionale qui a Genova, mettendoli assieme ed assieme in pubblico, schierandosi, dichiarandosi. Quello è stato uno dei momenti più importanti del festival, dal punto di vista emotivo sono stato molto toccato dalla lezione di grasso sull'acqua e la legalità e dal punto di vista culturale indubbiamente la lezione di filosofia di tutte e due, in particolare quella di Severino, mi sembra sia stato un momento molto alto, tra l'altro è stato anche bello in questa Italia, in questo paese dove la superficialità sembra diventata la regola generale, vedere delle sale che si riempiono per ascoltare un filosofo, questa è una cosa molto bella, diciamo sono i momenti forse più intensi che mi è capitato di vivere. Qualcuno ha detto che in questo tempo non abbiamo il tempo per pensare, in questa settimana siamo riusciti a pensare all'acqua? Spero, spero che quelli che hanno partecipato, sia il pubblico che veniva per sentire, sia coloro che hanno partecipato, perché dimentichiamo che certo 50 sono stati i relatori, quindi a volte si pensa che il ruolo dei relatori sia quello di parlare a qualcuno che ascolta, ma 150 operatori del settore, economisti, politici, che sono venuti qui, sono stati costretti a sentire anche le idee degli altri e quindi in qualche modo a pensare anche alle diverse problematiche dell'acqua. Il nostro scopo era quello proprio di far pensare persino con esercizi della mente, appunto la filosofia che non era immediatamente attinente a che cosa fare domani dalla tariffa dell'acqua, quindi era un esercizio della mente, diciamo, quindi sicuramente sì. Ma anche le suggestioni emotive che hanno suscitato gli spettacoli, i balletti, quello di ieri, ma non solo l'inaugurazione della Fontana con un balletto in chiave ridotta rispetto alla sontuosità di quello di ieri, mi sembra che, insomma, sono cose che sollecitando il sentimento sollecitano anche il pensiero.